A differenza di Windows, dove per installare un'applicazione devi cercare il sito dove poterla scaricare ed eseguire il suo programma di installazione e poi per aggiornare questa applicazione rifai tutto da capo, sotto Linux le cose funzionano in maniera differente. Prima di continuare ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux e di programmazione. Se questi argomenti ti interessano iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Sotto Linux, dicevo, le cose funzionano in maniera concettualmente simile a quanto accade per gli smartphone. Così come per gli smartphone trovi le applicazioni in un app store centralizzato, sotto Linux trovi molte applicazioni comodamente nei repositori della distribuzione. Per installare questi pacchetti puoi tranquillamente utilizzare il package manager grafico della tua distribuzione. Per esempio, su Buntomate, il package manager grafico si chiama Software Boutique. Attenzione, perché il package manager grafico normalmente mostra solo le applicazioni grafiche. E se io invece volessi installare un'utility a riga di comando? Ogni distribuzione, o meglio, ogni famiglia di distribuzioni, ha il proprio formato di pacchetti. Per esempio, le distribuzioni della famiglia Red Hat usano pacchetti RPM, mentre le distribuzioni della famiglia Debian usano i pacchetti DEB. E ogni formato di pacchetti ha i suoi tool a riga di comando specifici. Per aiutarti ad utilizzare i package manager a riga di comando dalle distribuzioni più diffuse, l'ArchWiki ha una bellissima pagina che ti mostra il comando da dare per ogni possibile azione che si vuole compiere, per tutti i package manager più utilizzati. Molto, molto utile, anche se non usi Arch. Ora, finché il software che cerchi è presente nei repositori della tua distribuzione, questo metodo è stupendo. Ma cosa succede se un software che voglio non c'è nei repositori della mia distribuzione? Qui le strade possibili sono numerose, ciascuna con i suoi pro ed i suoi contro. Iniziamo col dire che i pacchetti dipendono molto non solo dalla famiglia di distribuzione, ma anche dalle varie versioni della distribuzione stessa. Mi spiego meglio. La famiglia Debian, per esempio, utilizza i pacchetti in formato DEB, ma questo non significa che se io trovo il software pacchettizzato come DEB, allora questo automaticamente funziona sulla mia distribuzione. Un pacchetto DEB per Ubuntu molto probabilmente non funzionerà su Debian, ma non solo. Un pacchetto DEB per Ubuntu 20.04 potrebbe non funzionare su Ubuntu 2804, e questo perché le distribuzioni Linux, tutte, danno poca importanza alla compatibilità binaria tra una versione e l'altra. Detto questo, oltre ai repositori ufficiali della distribuzione, esistono anche repositori di terze parti, che potrebbero contenere il software che stai cercando. Questi repositori di terze parti dipendono anch'essi dalla distribuzione e hanno un nome specifico per ogni distribuzione. Per esempio, su Fedora si chiamano Kopr, su Ubuntu si chiamano PPA e su Arch si chiamano Aure. Il vantaggio di utilizzare repositori di terze parti è che utilizzi gli stessi strumenti della tua distribuzione per installare, aggiornare e disinstallare i pacchetti. Ma fai attenzione! Non utilizzare troppi repositori di terze parti contemporaneamente, altrimenti potresti incappare in conflitti ed instabilità. Se invece non trovi nessun repositori di terze parti che contenga l'applicazione che vuoi installare, allora le cose si complicano. Se l'applicazione che vuoi installare è open source, allora puoi sempre compilarla da sorgenti. Per quanto questa opzione possa sembrare spaventosa, soprattutto se non l'hai mai fatto prima, vedrai che in realtà non è così terribile come sembra. Non c'è bisogno di essere programmatori per compilare un'applicazione e solitamente basta eseguire le istruzioni di compilazione contenute nella documentazione dell'applicazione. non solo, ma in pieno spirito open source potresti anche contribuire alla tua distribuzione, pacchettizzando il software che hai appena compilato, rendendolo così facilmente installabile dagli altri utenti della tua distribuzione. E qui scopriamo un punto fondamentale che se non sei programmatore o non sei attivamente coinvolto nello sviluppo di una distribuzione, ignori. Lo sviluppatore di un software e del suo packager in una distribuzione spesso e volentieri sono persone diverse. E più ci pensi e più questo ha senso. Mettite dal punto di vista di chi sviluppa un software. Difficilmente usi più di una distribuzione sul tuo computer. E visto che ci sono diversi metodi di pacchettizzazione del software che dipendono non solo dalla distribuzione utilizzata, ma anche dalla versione specifica della distribuzione, capisci che diventa veramente dura per uno sviluppatore fare pacchetti per ogni singola distribuzione. Ha molto più senso invece che un utente di una distribuzione si prenda carico di fare i pacchetti per la propria distribuzione. Questa situazione però presenta delle problematiche importanti. Come abbiamo visto, c'è bisogno di qualcuno che si prenda la briga di pacchettizzare il software per la tua distribuzione. Quando lo sviluppatore rilascia una nuova versione del software, c'è bisogno anzitutto che i vari packager delle varie distribuzioni vengano a conoscenza della nuova versione, cosa assolutamente non scontata, e poi pacchettizzino questa nuova versione. In più, alcune distribuzioni potrebbero non accettare l'aggiornamento fino alla prossima versione della distribuzione. E quindi, se utilizzi i pacchetti forniti dalla distribuzione, potresti trovarti con una versione non aggiornata di quel software. Per risolvere queste problematiche, immagina se chi sviluppa il software potesse egli stesso creare un solo pacchetto che funziona su tutte le distribuzioni. In fondo, i problemi di compatibilità binaria tra le varie distribuzioni è legata al fatto che un'applicazione ha delle dipendenze, e queste dipendenze sono differenti da distribuzione a distribuzione. Se invece creiamo un formato di pacchetto che contiene non solo l'applicazione, ma tutte le sue dipendenze, ecco che otteniamo un software che gira su qualsiasi distribuzione, a costo solamente di un maggior utilizzo di spazio su disco. Negli ultimi anni, quindi, si sono fatti avanti tre formati che fanno proprio questo, ognuno con i suoi vantaggi ed i suoi svantaggi. Abbiamo AppImage, dove l'applicazione che vuoi usare consiste in un unico file, che dopo averlo scaricato e dato il permesso di esecuzione, lo avvii e funziona. Non serve nessun software aggiuntivo per installarlo, e quando vuoi disinstallarlo basta che elimini il file. Tutto questo da un lato sembra molto bello, ma dall'altro lato siamo tornati alla scomodità di Windows, dove se voglio aggiornare le mie applicazioni devo andare a cercarle a una a una su internet, scaricarle e sostituirle a quelle che utilizzo. C'è un programma chiamato AppImage Launcher, che oggi serve unicamente per integrare i programmi AppImage col desktop, ma stando alla documentazione, in futuro potrebbe pure gestire gli aggiornamenti. La maggior parte delle applicazioni pacchettizzate AppImage le trovi su AppImage Hub, ma, vista la natura singola file, puoi trovare pacchetti AppImage veramente ovunque. Per esempio, un altro posto dove potresti trovare un pacchetto AppImage è sulle GitHub releases di un progetto. Personalmente, trovo che la mancanza di un repository vero e proprio e di un comando per cercare, installare, aggiornare e disinstallare i pacchetti AppImage sia un grosso problema, per cui non userei AppImage se non per provare una o due applicazioni, così per curiosità. Snap e Flatpak sono due formati molto simili, ed entrambi hanno i propri tool di installazione, aggiornamento e disinstallazione. La grossa differenza tra Snap e Flatpak è che Snap è un progetto fortemente legato a Canonical, l'azienda che è sede di otrobuto per intenderci, e dal suo SnapStore. Non hai a disposizione repository diversi dallo SnapStore di Canonical, e per pubblicare solo SnapStore devi firmare un contributor level agreement. Flatpak, invece, non è controllato da una singola entità. Ha un repository principale chiamato FlatHub, ma non è limitato solo a quel repository. Entrambi i formati hanno una sandbox, cioè limitano le risorse che l'applicazione può vedere, per esempio un'applicazione non può accedere a nessun file lì fuori dell'autom directory. Questo approccio, se usato bene, aumenta la sicurezza del sistema. Personalmente trovo Snap e soprattutto Flatpak molto validi, perché mi danno la stessa comodità di gestione del package manager della mia distribuzione. Concludendo I repository della distribuzione sono stupendi, è un metodo di gestione del software che funziona molto bene, ma purtroppo non tutti i software sono pacchettizzati per la distribuzione, o almeno non sempre l'ultima versione. AppImage, Snap e Flatpak complementano molto bene i pacchetti specifici della distribuzione e semplificano di gran lunga il lavoro ai packager. Nel caso in cui non trovi l'applicazione che desideri in nessun formato, puoi sempre compilarlo da sorgenti. Grazie dell'attenzione, ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Library, trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video, ciao! Per cui non nuterei... No, no.